è una cinghiale, non un gatto è una cinghiale piccola è una cinghiale piccola è possibile che la cinghiale si è aperta queste cinghiale non sono due cinghiale si, due cinghiale era una cinghiale si, fuori laddata con un luogo al luogo in particolare ma anche più che esiste Grazie a tutti.